Ben trovati con l'informazione di Tg Melito. Siamo alle primarie del PD. Mario Oliverio è il vincitore del lui, il candidato del centro-sinistra, alle prossime elezioni regionali. Ha vinto con oltre il 60% dei voti. Secondo quanto diffuso dal coordinamento organizzativo, il commissario della provincia di Cosenza avrebbe vinto nelle province di Catanzaro e di Cosenza, primo anche a Crotone, seppur con uno scarto minore a Reggio Calabria, dove il dato della città premia l'ospidante Gianluca Callipo, ma nel complesso provinciale incorona, seppur di poco, il candidato cosentino. Vittoria di Liverio di circa 400 voti anche nella città di Vibo Valencia, dove però a livello provinciale i due principali sfidanti pareggiano i conti. Sono oltre 110 mila i voti espressi durante le elezioni primarie che si sono tenute domenica 5 ottobre in tutta la Calabria, la primaria del centro-sinistra, per la scelta, dicevamo, del candidato alle prossime elezioni regionali. Secondo quanto diffuso dallo staff organizzativo, il dato sarebbe in controtendenza rispetto a quello delle elezioni primarie in Emilia Romagna, dove rispetto alle scorse elezioni primarie si è registrato un calo di oltre 100 mila votanti, superano il dato delle primarie di coalizione del 2010, quando fu scelto Agazio Loiero per sfidare Giuseppe Scopelliti, alla carica di Presidente della Regione Calabria, lì votarono meno di 100 mila elettori calabresi. Da domani comincia l'impegno vero, mio, nostro e di tutto il Partito Democratico, unito e del centro-sinistra, per costruire l'alternativa alla destra, così commenta il vincitore a caldo Mario Oliverio. Ed il centro-sinistra ha il suo candidato alla carica di Presidente della Regione, ed è un esponente del Partito Democratico. Ho chiamato Mario Oliverio, quindi ovviamente questa è una diversa dichiarazione, questa è la dichiarazione di Gianluca Callipo, al quale ho fatto i miei migliori auguri, assicurandogli sin da ora che sosterrò la sua corsa alla Regione, perché l'obiettivo comune che avevamo entrambi all'inizio della campagna elettorale per le primarie era, e resta, battere il centro-destra e restituire alla Calabria un governo autorevole ed efficace, guidato da quello che Matteo Renzi è riuscito a trasformare nel più grande partito progressista europeo. Dicevamo questo, è il commento rilasciato alla stampa da Gianluca Callipo. Lo scarto di pochi punti percentuali testimonia la grande voglia di cambiamento dei calabresi che hanno risposto in maniera eccezionale all'appello delle primarie. Il nostro progetto quindi resta in piedi e continuerà a proporre una diversa idea di politica più moderna in sintonia con il desiderio di rinnovamento che i cittadini esprimono in maniera sempre più forte. Un'altra dichiarazione è quella del segretario regionale del PD Magorno. Immediatamente ritroveremo le ragioni della nostra unità e inizieremo a lavorare per affrontare insieme la sfida determinante delle elezioni regionali, consci della responsabilità come coalizione di centro-sinistra di dare un nuovo governo ai calabresi e quanto ha affermato il segretario regionale, dicevamo, del PD Ernesto Magorno al termine delle operazioni di voto. Adesso chiudiamo il capitolo delle primarie del centro-sinistra e apriamone un altro perché a San Lorenzo Marina si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime della strada statale 106. Grande partecipazione da tutta l'area grecanica, presenti anche molti sindaci del territorio e molte associazioni per lanciare un messaggio forte sia agli organi competenti affinché rendano la strada più sicura e quindi maggiormente fruibile, dicevamo con sicurezza, ed anche agli automobilisti per guidare con maggiore prudenza. Ma vediamo l'intervista di Domenico Salvatore al parroco laurenziano Don Giovanni Zampaione. E' stata una fiaccolata molto partecipata, nonostante il tempo tantissima gente ha partecipato, tantissimi sindaci dell'area grecanica, c'erano diverse associazioni e c'era tantissima gente che ha voluto ricordare le tantissime vittime della strada. Con questo abbiamo voluto mandare un segnale forte a tutte le istituzioni. Abbiamo fatto questa fiaccolata per dire basta alle tante vittime della strada, basta ai tanti fiori sull'asfalto e codiamo precedenza alla vita. Allora ringrazio veramente di vero cuore tutti coloro che hanno partecipato, non faccio nome perché rischio di dimenticare qualcuno, però ringrazio i sindaci, le istituzioni, tutto coloro che hanno partecipato e che veramente hanno partecipato con il cuore. La stessa fiaccolata che abbiamo fatto sulla strada l'abbiamo fatta in maniera silenziosa, proprio per dare un segnale forte all'istituzione e per dare coraggio a tutte le mamme che hanno perso i loro figli proprio sulla strada. E' stato distribuito un santino, possiamo chiamarlo così. E' stato distribuito San Cristoforo è questo. Qui c'è un decalico di chi si mette in viaggio, è veramente un decalico forte. Ecco, mi auguro che tutti coloro che hanno ricevuto questo segno, ecco, lo mettono in pratica. Perché la strada, come regge da questo decalico, leggo soltanto il primo, come la vita deve essere uno strumento di unione e non di morte. Ecco, questo sintetizza tutto. Ecco, mi auguro che per tutti chi si mette sulla strada stia attento a quello che fa, soprattutto quando guida. Grazie a tutti, grazie Studio 95, grazie a saltolavecchia.com e grazie a tutti per aver partecipato a questo momento forte di riflessione e di preghiera. Ancora area grecanica, siamo a Condofuri. Incediate due automobili nella notte, lungo la via Palermo. Alle prime avvisaglie del rogo i residenti della zona sono accorsi per spegnerlo, con i pochi mezzi di fortuna disponibili prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che è stato circa 15 minuti dopo. Sono ancora ignote le cause di questo incendio, che ha tutti connotati per definirsi doloso e sono in corso le indagini che saranno svolte dalle autorità competenti. Ed è partita la dodicesima campagna nazionale per la ricerca contro la fibrosicistica, che si concluderà il 26 ottobre. Banchetti e presidi in tutte le piazze italiane, anche nella nostra area grecanica. Con i famosi ciclamini abbiamo raccolto la testimonianza di un volontario La fibrosicistica è una malattia genetica che colpisce quattro bambini ogni anno e chi è portatore sano di questa malattia purtroppo ancora non sa di esserlo. Noi siamo presenti sul territorio dall'11 in realtà al 26 ottobre, la campagna nazionale. Cerchiamo di raccogliere fondi per la ricerca perché soltanto con una buona offerta e una buona ricerca si può vincere la fibrosicistica. Noi saremo presenti sul territorio fino al primo di novembre con la nostra delegazione di Reggio Calabria per cercare appunto di raccogliere fondi a destinare al progetto di ricerca Task Force for Cistic Fibrosis, che è una campagna appunto a livello nazionale. Quindi l'invito è anche di comprare questo bel ciclamino per dare un contributo. Noi offriamo i ciclamini, il mese di ottobre è dedicato appunto alla campagna del ciclamino e proponiamo anche l'offerta del libro del Bike Tour del nostro vicepresidente Matteo Marzotto che racconta un album fotografico e racconta l'esperienza appunto che abbiamo avuto noi, ogni delegazione d'Italia con appunto la ricerca sulla fibrosicistica. Quindi diamo una mano a chi soffre di questa grave malattia affinché possa avere più respiro. Gli uomini del comando provinciale di Reggio Calabria hanno individuato e sequestrato circa 78 kg di cocaina purissima nascosta all'interno di un container che trasportava pellame proveniente dal Cile. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, DIA, è stata eseguita attraverso una serie di incroci documentali e successivi controlli di container sospetti anche a mezzo di sofisticate apparecchiature e scanner. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato con la vendita al dettaglio circa 15 milioni e 600 mila euro. E si è tenuto nel fine settimana nell'area grecanica il motoraduno organizzato dal Motoclub Aquile del Sud di Bova Marina. Ai nostri microfoni il responsabile nazionale della Commissione Turistica della Federazione del Moto, Michele Traverso, lo ha intervistato per noi Lidia Zumbo. Questa è una manifestazione che non vogliamo che rimanga chiusa nell'ambiente dei motociclisti ma che venga conosciuta anche dall'ambiente della Spormonte, dell'ambiente della riviera di Bova, che tra l'altro è una città molto bella e che offre la possibilità nei dintorni di vedere qualche cosa che veramente è interessante ed è particolare. Lei mi chiedeva perché portiamo i motociclisti a fare degli itinerari fissi? Perché riteniamo che proprio la moto sia uno strumento per fare turismo, forse lo strumento migliore che esiste nel mondo, a parte i cavalli, ma oggi sono cavalli meccanici, cavalli di ferro i nostri, che ci consentono di fare delle strade che normalmente non facciamo, che normalmente la gente non conosce, a portare a vedere queste meraviglie turistiche, storico-culturali, che sono un patrimonio inscindibile dell'Italia. Qui ieri siamo stati a Palizzi a vedere questa città del vino, questo borgo che fa parte dei borghi mediovali più belli d'Italia e in questo momento stanno per partire, per giungere all'ultimo itinere di questa giornata motociclistica a Bova Alta, che mi dicono essere molto bella, per cui finito con voi andrò vedere anch'io Bova Alta. Ed è, credo, lo spirito e lo scopo per cui siamo qui. Quindi riunire i motociclisti, fare aggregazione, ma fargli conoscere le bellezze del territorio. Calcio adesso perché la regina finalmente torna a vincere allo Stadio Granillo e riesce a farlo nel derby di Calabria, sfoggiando una superlativa prestazione, una tripletta di insigne, stende letteralmente il Cosenza. Il canciatore napoletano regala tre punti alla regina e porta a casa il pallone. Il Cosenza anche in questa partita mostra tutti i suoi limiti, la squadra subisce tanto e non reagisce. La regina per 90 minuti passeggia contro un avversario che sembra quasi rassegnato alla sconfitta. In casa rosso-blu sono retese, il patron guarascio sta pensando se dare un'altra opportunità al tecnico oppure sollevarlo dall'incarico. In bilico anche il DS Melluso è arrivato in estate ma già pronto a lasciare il rosso-blu dopo un mercato veramente opaco. Ebbene, con il calcio noi chiudiamo questa edizione del Tg Melito. Vi ricordiamo che se avete qualche notizia da segnalarci potete farlo tramite la nostra pagina Facebook o i nostri indirizzi di posta elettronica e che potete trovare tutte le repliche dei nostri telegiornali online on demand. Grazie per averci seguito ed un buon proseguimento su Telemelito. Grazie a tutti.